Cassa dell'Emilia Romagna potrebbe essere questo il nome del nuovo istituto di credito che entro qualche mese potrebbe nascere dopo l'accorpamento del riminese Karim con la Cesenate Cassa di Risparmio di Cesena. Dopo la presentazione per entrambe di alcuni dati di bilancio che seppur migliori dell'anno scorso presentano ancora il forte problema delle sofferenze potrebbero essere i francesi di credì agricola ad acquistare entrambe le banche per trasformarle in una unica e più grande. Secondo quanto emerso il percorso è già tracciato in un primo momento dovrebbe essere il fondo interbancario a rilevare la maggioranza delle quote riminesi. Solo successivamente e dopo essersi fatto carico dei crediti deteriorati che per la sola Karim montano a circa 650 milioni arriveranno i francesi tramite Kariparma. Per quanto riguarda Palazzo Buonadrata è chiaro che il valore delle azioni crollerà ancora passando dagli attuali 3,34 euro a solo uno. La fondazione Karim dovrebbe mantenere una quota di circa il 20% con la CGL che intanto la sollecita a una maggiore chiarezza con particolare riferimento alle sorti dei dipendenti.